Ciao a tutti, siamo i Magis of Lotus, benvenuti oppure bentornati nel nostro canale è arrivato il momento di fare un video dedicato esclusivamente a Magic Online piattaforma molto antica ma che tuttora funziona è utilizzata da tantissime persone, da content creator, da chi gioca per divertirsi da chi gioca per qualificarsi agli eventi importanti come il Pro Tour ed è utilizzata anche da chi vuole avere un ritorno economico più o meno importante grazie a Magic e sia appunto grazie al gameplay, quindi ai risultati delle proprie partite oppure anche semplicemente investendo perché su Magic Online comunque c'è il mercato secondario ed è abbastanza, come dire, diverso in realtà da quello cartaceo ma ve ne parlerò meglio di tutto ciò nel video lungo che farò appunto riguardo a Magic Online questo video qua è fatto per, diciamo, introdurvi un attimo quello che sarà appunto il prossimo video in cui appunto parlerò di come approcciare la piattaforma quindi come scaricarla e altri piccoli consigli poi come comprare le carte come affittare le carte come vendere le carte come creare delle buy list che vi consentiranno di comprare fino a 400 carte e con tipo 3-4 click in 5-6 secondi vi farò vedere anche dove guardare i prezzi vi dirò brevemente quali sono, diciamo, i fattori che influenzano i prezzi di una carta e vi dirò anche quello che voi mi chiederete tramite commento sotto questo video quindi ho fatto questo video qua per lasciare a voi uno spazio dedicato appunto alle domande da farmi e aiuterete me a sviluppare certe tematiche a cui magari non ce l'ho pensato e poi aiuterete anche voi stessi perché magari vi dirò alcune cose se le so e se sono, come dire, inerenti a Magic Online ultimissima cosa vi lascio con una domanda e vediamo chi risponderà esattamente allora, questo è Copter carta che è stata sbannata in Pioneer qualche settimana fa carta che è passata da un centesimo di dollaro a 4 dollari ed è poi scesa nuovamente a meno di un dollaro la domanda è come mai è scesa? molti potrebbero pensare perché in realtà non ha visto poi così tanto gioco o non è stata così impattante nel formato non è vero la carta si gioca in tantissimi deck del Pioneer adesso ve li faccio vedere ecco qua si gioca soprattutto anche in Rakdos Midrange che è il deck più giocato è attualmente il deck più solido, forse, del formato quindi non è scesa perché la carta non impatta il meta non è impattato il meta ma è scesa per un altro motivo vediamo chi risponderà esattamente ci vediamo prossimamente e a presto quindi fate i bravi e a presto ciao ragazzi